Vincere aiuta a vincere. Sostanzialmente io credo che i ragazzi abbiano solo bisogno di finalmente ottenere questa vittoria che stanno inseguendo da tanto. Io mi immedesimo molto nei loro panni e so che è frustrante, ma allo stesso tempo riesco a riconoscere e a vedere quanto lavoro e quanto impegno ci mettono. Quindi mi piange il cuore vedere che poi escono dal campo. Sì, delle volte credo ci sono state delle sconfitte probabilmente immeritate per il gioco che si era visto. Quindi sì, credo che sì, non sia effettivamente giusto fare un paragone e quello che auguro a loro è di ottenere presto questa vittoria che se la stanno sudando veramente in ogni modo. Con Luca ho avuto anche di recente degli scambi molto interessanti, poi per interviste eccetera eccetera. La pensiamo molto uguale, nel senso che sappiamo che il lavoro paga e quindi non mi sento di darmi consigli. Ogni volta, in quelle occasioni che è capitato che parlassimo insieme, è stato più lui quasi a dare consigli a me. D'altronde credo che non possa essere altrimenti, nel senso loro sono professionisti, lo vedi non solo dal modo di parlare, ma anche dall'atteggiamento stesso. Quindi io ho avuto tanto da imparare da loro e in questi scambi ci sono state chiaramente, sai, un po' il parlarsi di com'è il gruppo, com'è il morale, tutte queste cose qui. Quindi credo che lui da solo stia già facendo un ottimo lavoro. Quindi no, nessun consiglio, se non lui lo sa, che appunto spero che presto possano raccogliere i frutti di questo grande lavoro che stanno facendo.